buongiorno siamo arrivati come state quanti siete quando arrivate adesso provo a fare silenzio e vi aspetto in religioso silenzio ma intanto non sono capace a stare zitta non ce la faccio proprio mi sistemo anche un po violenza the first one buongiorno buongiorno abbiamo già tre occhietti allora vi devo comunicare un po di cose come sempre come tutti i giorni però aspettiamo qualche occhietto in più sono tre che sono gli altri due occhietti fatevi vedere scrivetevi un messaggino dai 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 che ti aspetto ecco uno se ne è già andato è tornato siamo a tre occhietti due occhietti allora si decide due occhietti o tre occhietti prendo appunti loris ciao buongiorno ben arrivato mi hanno chiesto i bambini di aspettarli oggi che arrivano siamo a tre occhietti lo sapete che io patisco sempre un po quando cominciano arrivare persone e farle aspettare però potreste scrivermi qualche cosa così facciamo un po una conversazione tanto qua io sono con gino il topolino con una lunga code allora io so per certo di dover aspettare paola katia che mi hanno detto che sarebbero arrivate che ora sono e presto è dai fiorenza chiedimi qualcosa ciao buongiorno a te e complimenti grazie loris isabella buongiorno 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 isabella mi ha mandato delle fiabe che non ho ancora avuto il tempo di leggere ma non solo le leggerò io ma poi le leggerò anche a voi allora aspettiamo qualche altro commento intanto gli occhietti sono cinque ciao aspettiamo che gli occhietti diventino e sono sei aspettiamo il settimo occhietto e poi cominciamo tanto io lo dico sempre a me fa piacere vedere gli occhietti e vedere voi che mi salutate però poi per i ritardatari c'è sempre la differita ma guarda devo dirti la verità mi chiede ti piace di più tiglia o il super lupo sono due favole fiabe bellissime diverse e quindi non riesco a dire se preferisco uno l'altro e mi sto divertendo moltissimo leggerle a leggerle tutte e due anzi mi sono divertita a leggere tiglia che ho intenzione poi di pubblicare per intero sul mio canale youtube ciao anto buongiorno arianna ma che bello approfitto antonella grandicelli arianna ad esito mafeo hanno un blog bellissimo che si chiama the melting pop andate a darci un'occhiata perché è veramente interessante pubblicano racconti è veramente veramente un bel modo di trascorrere le giornate dare un occhio e poi non lasciarlo più perché chi chi lo comincia poi difficilmente buongiorno bormio conte allora bene siamo arrivati al numero per cui io posso cominciare intanto vi vorrei dare una spiegazione io non so quanti di voi sanno sappiano che in realtà quando ti dicono in bocca al lupo tu non devi rispondere crepi il lupo ma devi rispondere viva al lupo chi lo sa perché allora io l'ho scoperto ve lo racconto è brevissima la storia si dice viva al lupo perché la mamma lupa salva i suoi lupacchiotti o meglio fa aiuta i suoi lupacchiotti cuccioli quando ancora non sono in grado di magari attraversare una strada buongiorno paola arrivata roberta ciao magari il lupacchiotto ancora piccolino fa fatica ad attraversare la strada magari attraversare un ostacolo e allora cosa fa la mamma lupacchiotta la prende ciao fatilde buongiorno la prende per la collottola la mamma prende il figlioletto per la collottola e lo porta al di là in questo modo il lupacchiotti se ne salvo quindi in realtà ricordatevi di dire sempre viva lupo quando vi dicono in bocca al lupo perché se la lupacchiotta ti prende per la collottola vuol dire che ti sta per salvare e questa è la prima cosa la seconda cosa che mi preoccupa un po e gg ragazzi gg ha una regressione infantile probabilmente ciao ale alessandro che piacere allora vi dicevo che gg ha una regressione da qui è cominciato a raccontare io non so perché però ad esempio con i fratelli grimm non gli succede forse perché si sente protagonista ciao camilla in realtà da che ho iniziato a fare queste dirette facebook lui soffre di attacchi di gelosia allora da ieri ha ricominciato a fare il bebè il bebè sì il bebè cosa è successo che praticamente ha cominciato di nuovo a volere latte a fare i capricci come quando era neonato e allora ciao aledentone uno chef abbiamo anche e allora che cosa ho fatto io sono andata a cercargli il vestitino di quando era neonato e l'ho trovato gli va ancora eccolo questo vestitino qui che voi vedete era del mio nipotino di quando aveva un mese e mezzo due mesi vi potete immaginare la sorpresa adesso lui fa 17 anni io questo qui glielo dato 17 anni fa pensavo che li fosse piccolo invece li va ancora bene comunque giusto per dirvi che ogni tanto ciao katia ben arrivata ciao camilla ben arrivata buongiorno a tutti ho una sorpresa tanto per cambiare quindi ascoltiamo il super lupo mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube luci trattino basso legge con due c e la i normale così possiamo insieme ascoltare le fiabe di luci io dalla parte di là su youtube e voi mi ascoltate mi sono distratta perché sto leggendo i vostri messaggi allora basta cominciamo subito che ci siamo anche già intrattenuti 16 08 ragazzi tardissimo allora oggi due episodi e poi una sorpresa quindi non mi lasciate due episodi del super lupo super lupo e i tre porcelli nella campagna vicino al villaggio dove sorgeva la scuola di pier giulio c'erano alcune fattorie isolate abitate da famiglie di contadini che coltivavano mais pomodori zucchine girasoli e frumento una delle famiglie era composta da tre porcelli abbastanza anziani erano fratelli ma non andavano affatto d'accordo il primo portava lunghi baffi e si chiamava alberto il secondo aveva la barba e si chiamava gilberto il terzo aveva un ciuffo e si chiamava gusberto discutevano sempre su tutto e non riuscivano mai a prendere una decisione insieme avevano anche gusti differenti al primo piaceva pescare il secondo amava costruire modellini di navi in legno il terzo passava il tempo in giardino a curare i fiori avevano costruito tre case diverse per non abitare insieme alberto aveva una casa di paglia gilberto l'aveva costruita di legno gusberto aveva realizzato una casa di mattoni un giorno i tre erano nel cortile su cui si affacciavano le loro case stavano litigando dovevano dovevano decidere che cosa seminare per l'anno successivo io dico che bisogna seminare il grano disse alberto no il grano impiega troppo tempo a maturare dobbiamo piantare i pomodori ribatte gilberto ma che grano ma che pomodori voi non capite niente di agricoltura bisogna piantare i girasoli sbraittò gusberto litigarono a lungo senza trovare un accordo e infine tornarono ciascuno alla propria abitazione convinti di avere ragione e per nulla disposti ad ascoltarsi durante la notte si alzò un vento fortissimo le raffiche si abbattevano con violenza sulla campagna ululando e soffiando contro le porte e le finestre delle abitazioni ogni cosa che si trovasse all'aperto venne spostate sbatacchiata qua e là gli animali delle fattorie corsero a rifugiarsi nei loro pollai nelle loro stade nelle loro scuderie mentre quelli che vivevano in libertà cercarono luoghi riparati ai piedi degli alberi più robusti per attendere che la tempesta si placasse alberto si rese conto che la sua casetta di paglia era troppo debole per resistere decise di andare dal fratello gilberto a chiedere riparo per la notte prese una coperta si la mise addosso e uscì appena in tempo perché il vento con una raffica più forte delle altre abbatte completamente la sua casa alberto si mise a correre arrivò alla casa di legno del fratello gilberto gilberto aiuto aprimi gilberto si precipitò ad aprire entra entra e aiutami a richiudere la porta i due porcelli spinsero insieme la porta di legno e dopo molti sforzi riuscirono infine a chiuderla passò un po di tempo il vento non accennava a placarsi alberto e gilberto erano preoccupati perché le pareti della casa scricchiolavano se non scappiamo al più presto la casa ci crollerà addosso presto andiamo da gusberto la casa scricchiolava sempre più e proprio mentre i due porcelli scappavano crollò raggiunsero a fatica la casa di mattoni di gusberto lottando contro la forza del vento aiuto gusberto apri il terzo porcello quello che era un po porcelloso aprì la porta pronto a proteggere i fratelli nella sua robusta casa i due porcelli però quando era stata distrutta la casa di legno non si erano accorti che una lampada a petrolio appesa in cucina era caduta e aveva incendiato le assi il fuoco spinto dal vento si stava avvicinando alla casa di gusberto pier giulio che era a casa fiutò l'odore dell'incendio allora si affrettò a mangiare dei pezzi di pizza al prosciutto e funghi ai quattro formaggi al peperoncino poi uscì volando dalla finestra vi ricordate bambini pier giulio è il lupo buono che diventa un supereroe quando mangia la pizza e allora mangia tanta pizza e diventa fortissimo e che cosa fa sapeva esattamente dove andare e il vento non gli impediva di volare a tutta velocità volò fino al laghetto dove andava a pescare con martina si tuffò e beve un'enorme quantità d'acqua poi volò verso la casa di gusberto che ormai si era incendiata dentro dentro i tre porcelli stavano abbracciati e piangevano non potevano uscire perché il fuoco aveva bloccato porte e finestre come siamo stati sciocchi a litigare potevamo vivere in armonia saremmo stati più felici e ora ci tocca morire arrosto basta piangere venite con me sul tetto i tre salirono dalla scaletta che portava sul tetto tra il fumo viderà apparire una strana figura volante ma che cos'è è pier giulio super lupo pier giulio innaffiò la casa con l'acqua contenuta nel suo capace stomaco e l'incendio si spense i tre porcelli si misero a saltare a ballare per la gioia bravo super lupo grazie grazie ci hai salvato la vita evviva super lupo evviva super lupo da quel giorno i porcelli decisero di abitare insieme nella casa di gusberto e non litigarono più pier giulio invece si sentiva pronto per tante altre grandi imprese perciò saluto la mamma il papà e martina fece la valigia e se ne andò addio la gloria mi chiama sentirete parlare di me e dove andò dove andò dove andò dove andò ve lo racconto subito dove andò nel secondo meraviglioso appuntamento del nostro meraviglioso strepitoso e fortissimo come si chiama come si chiama pier giulio allora siete pronti per la seconda storia pier giulio e i sette capretti vi ricordate la storia di sette cap del lupo e dei sette capretti allora vi posso dire che io l'ho messa sul mio canale youtube per cui se andate nel mio canale youtube luci trattino basso legge potrete ascoltare con questo ditino qua potrete ascoltare il lupo e i sette capretti andiamo a vedere invece il lupo buono che cosa fa pier giulio vi ricordate aveva salutato si era fatta le sue valigine aveva detto arrivederci grazie io vado a conquistare il mondo perché voglio salvare più persone possibili prese un treno poi un autobus infine invece pure l'autostop arrivò così alla capitale gran città era immensa con milioni di abitanti e chilometri e chilometri di strade così diversa dal suo tranquillo paesino di campagna c'erano grattacieli aerei che volavano auto che sfrecciavano e tanta puzza entrò in un bar perché aveva fame in realtà aveva in valigia una bella scorta di pizza ma non voleva intaccare la sua scorta prese un panino ma quando si trattò di pagare scoprì che costava tantissimo non avrebbe potuto stare per molto in quella città i soldi che gli avevano dato i genitori non sarebbero durati per molto tempo c'era anche il problema di trovare una casa ma come avrebbe fatto provò ad andare in alcuni alberghi ehi dove sta andando non vogliamo clienti poveri qui chi disse il portiere di un albergo di lusso guardandolo di traverso per giulio pensò devo cercare un posto che costi poco e dove mi trattino bene mentre cercava arrivò in periferia dove i palazzi erano sporchi e rovinati le strade piene di buchi e rifiuti sparsi qua e là chiesa un passante dove poteva trovare un albergo per un tipo come te c'è solo la vecchia locanda di mamma capra la vedova si trova al prossimo incrocio a destra pier giulio si avviò e arrivò alla locanda che casa cadente le finestre avevano le persiane rotte e i muri erano scoloriti e macchiati pier giulio entrò poco convinto gli venne incontro un caprettino nero dal muso simpatico che si mise a gridare mamma mamma vieni finalmente un cliente attirati dalle grida del piccolo arrivarono altri sei capretti maschi e femmine di diversa età poi giunse mamma capra grassottella e sorridente a pier giulio ricordò la sua mamma buongiorno signora ha una camera per me certo figliolo non è elegante ma è pulita vieni la camera era piccola ma graziosa dalla finestra si poteva vedere il retro della locanda con il giardino un piccolo orto e un canale nel quale scorreva l'acqua pier giulio si sistemò mise i vestiti nell'armadio e chiuse a chiave le sue preziosi pizze in un cassetto pensò che il giorno dopo sarebbe andata a presentarsi alla sede del giornale di gran città per trovare lavoro mentre faceva progetti entro in camera al capretto nero che gli chiese ciao come ti chiami da dove vieni perché sei qui giulio gli spiegò che era in città perché voleva fare il giornalista ho capito subito che sei un lupo buono certo sono veramente buono se hai bisogno di aiuto me lo devi dire e io ti darò una mano davvero esclamò incredulo il capretto poi continuò noi un problema ce l'abbiamo ed è veramente grosso il proprietario di questa locanda ci scaccerà se non paghiamo l'affitto oggi deve venire e abbiamo papà 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 paura perché non abbiamo soldi anche la mia mamma papà papà paura e io ho iniziato a malbettare proprio adesso vi aiuterò io disse il super lupo aprì il cassetto mangiò un'intera pizza e attese che arrivasse il padrone della locanda dopo pochi minuti si sentì sbattere la porta d'ingresso ehi capra della balona dove sei paga hai capito chi sbraitava era un omaccione grasso e sudato con pochi capelli in testa super lupo e il capretto si nascosero dietro un mobile buongiorno signor usuretti non ho soldi ma ho un cliente domani le potrò dare qualcosa disse mamma capra non dire sciocchezze ora basta prepara i bagagli e vattene con i tuoi mocciosi domani passo e non vi voglio trovare ancora qui a quelle parole super lupo uscì dal suo nascondiglio afferrò il grassone per il collo e cominciò a farlo roteare sopra la testa mentre gli diceva visto che non provi pietà per una famiglia povera io non avrò pietà di te ti farò girare 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 finché non sarai diventato magro come uno stuzzicadenti no no basta smettila farò quello che vuoi ho sbagliato a trattare male la famiglia capra li lascerò stare qui senza pagare l'affitto ma super lupo continua a farlo girare e gli disse non basta devi mettere a posto la locanda va bene va bene va bene la sistemerò a mie spese e se non lo farai io ritornerò disse deponendo a terra usuretti che si rialzò barcollando e si diede alla fuga i capretti circondarono super lupo li saltarono addosso riconoscenti lo abbracciarono e lo baciarono e lo mamma capra era così contenta che aveva le lacrime agli occhi eccolo qui super lupo i due episodi sono volati via come super lupo quando salva i bambini e poi scappa per una nuova avventura spero che vi sia piaciuta ma adesso c'è la sorpresa che ore sono 16 e 22 avete ancora 5 minuti per me voglio vedere sotto sì 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 finché non vedo almeno sì io non vi faccio la sorpresa sono diventato il padrone della locanda fatemi vedere non vedo neanche un sì però avevo visto vicky che è arrivata poi stefania ciao stefi non ho voluto una sorpresa mi è arrivato un sì mi è arrivato un altro sì allora oggi lasciamo a casa jacopo perego perché ho un'altra sorpresa questo è un romanzo per ragazzi che ha scritto sarah rattaro ed è meraviglioso ed è anche per i grandi è la storia di albert sabin l'uomo che ha regalato il suo vaccino per la poliomerite al mondo ma l'ha regalato a tutto il mondo è e questa è la storia di albert sabin i personaggi sono luca e filippo che il fratello io ve ne leggo un pezzetto e poi dopo allora molto tempo dopo quanto a ricordi non mi batte nessuno la memoria è la capacità di trattenere le informazioni che raccogli durante la vita lo spazio che il tuo cervello mette a disposizione per conservarle ecco se le cose stanno così io ho il cervello diviso esattamente in due metà la dedico ai ricordi metà alla musica ovviamente la musica non la suono a memoria ma per interpretare le variazioni golbert e john sebastian bach come le ha suonate il grande glen gould ci vuole molto cervello ricordo che il primo giorno di scuola la mia maestra indossava una gonna blu e che verso le 10 e 30 smise di piovere che il 6 dicembre 1980 mio padre tornò a casa con le mani sporche di grasso dicendo che aveva aiutato una signora a cambiare una gomma che il giorno del funerale del nonno il termometro segnava 24 gradi e che io non riuscivo a smettere di piangere so con certezza a chi mia madre ha venduto la sua prima auto qual è il primo film che abbiamo visto al cinema insieme le date di nascita di tutti i musicisti che adoro e che licia è nata esattamente due giorni e nove ore dopo di me quello che proprio non sono mai riuscito a capire è il mio fratello maggiore sin da quando era adolescente Filippo ha sempre amato il calcio, le ragazze bionde e i videogiochi insomma se lo avessi perso in una folla di fratelli maggiori avrei fatto fatica a ritrovarlo si assomigliano tutti a quell'età e proprio per questo io decisi che avrei impiegato il mio tempo per essere diverso quando ho preso questa decisione? era il mille, era il 4 luglio del 1984 il giorno in cui ho incontrato il mio eroe 4 luglio 1984 oh mio dio mamma, oh mio dio quella è Maradona mio fratello ha iniziato a strillare come un pazzo eravamo all'aeroporto di Barcellona al gate d'imbarco in attesa del nostro volo con la sua abituale efficienza mia madre aveva trasformato quella che doveva essere una normale puntualità in un anticipo eccessivo come al solito io stavo seduto e avevo un braccio legato intorno al collo il gesso era pesante mi rendeva lento trasformandomi in una facile preda degli scherzi di mio fratello più del solito sono un bambino serio dopo aver sentito centinaia di volte questa definizione da parte dei miei genitori per giustificare la mia voglia di limitare i contatti con gli altri ho deciso che anche io mi sarei definito così non strano non asociale non diversamente interessato agli altri solo serio una grande qualità così quando gli ho sentito urlare quella frase mi si è aperto il cuore il calcio non era la mia passione principale anzi non lo trovavo per niente interessante però Maradona era Maradona e su questo non si discuteva il più grande calciatore del momento che guarda caso stava proprio per cominciare a giocare in Italia a Napoli se non altro la sua presenza nello stesso posto in cui ci trovavamo anche noi avrebbe neutralizzato mio fratello per un po' regalandomi la meritata tranquillità non ci sono voli per Napoli ha gridato con un'espressione che gli deformava il viso dopo aver controllato il monitor delle partenze e allora? ma come? non li leggi i giornali? no non li leggo i giornali e da quello che so non lo fai nemmeno tu ho pensato non ho risposto sperando che mi lasciasse in pace ma non ha funzionato domani ci sarà la presentazione del Pipe d'Eora allo stadio San Paolo di Napoli ha annunciato dando un calcio a un bicchiere di plastica abbandonato sul pavimento e correndo in tondo davanti alla sua personale tifoseria io e la mamma e quindi ho murmurato quindi se non ci sono voli per Napoli vuol dire che prenderà quello per Roma il nostro insieme a noi la mamma si è irrigidita sapevo a cosa stava pensando confusione, ritardo e pericolo generale volare insieme a un personaggio così famoso la metteva a disagio i suoi occhi hanno iniziato a muoversi avanti e indietro avanti e indietro alla ricerca di una qualsiasi conferma mentre mio fratello saltellava come un clown gridando stesso volo stesso volo io maradona io stesso volo non ci posso credere solo stesso volo olè ho aggiunto nella speranza che la finisse lì ero arrabbiato con lui e il motivo riguardava proprio il mio braccio legato al collo siamo venute a Barcellona perché Filippo ormai diplomato ha deciso di iscriversi all'università qui il fatto che si volesse trasferire in un'altra città per studiare le stesse cose che avrebbe potuto imparare a 10 minuti da casa a me sembrava una vera genialata lo avrei visto solo a Natale e a Pasqua e quando ho realizzato la qualità di vita che questo mi avrebbe regalato non ho esultato di proposito per scongiurare l'ipotesi che cambiasse idea mai mostrarsi troppo entusiasti era la mia regola così finita la scuola siamo partiti io la mamma e Filippo alla ricerca di una sistemazione per lui che non fosse troppo scomoda con l'università la mamma sapeva esattamente come me che il rischio che lui passasse le sue mattinate a dormire era elevatissimo e per questo motivo continuava a ripetere che se alla fine del primo anno non avesse dato almeno 5 esami sarebbe tornato a casa di corsa le conseguenze di quelle minacce? Filippo faceva spallucce mentre io era brevidivo al solo pensiero per la cronaca io suono il pianoforte ho cominciato a 6 anni quando mio nonno mi ha fatto sedere sulle sue ginocchia e per la prima volta schiacciare con un dito un tasto bianco pochi minuti dopo ho avvertito una scossa elettrica in tutto il corpo ho appoggiato le dita sui tasti ed è stato come se tutto quello che avevo intorno compresa la mamma fosse svanito 6 anni dopo ho preso la decisione più importante della mia esistenza dopo le medie avrei frequentato il conservatorio nessun dubbio e nessuna obiezione la mamma e papà erano felici ma poi un giorno dopo aver passeggiato a lungo nel bario gotico ed esserci organizzati ingozzati perdonatemi di tapas e jamon serrano mio fratello mi ha rotto la mano destra non posso dire che l'abbia fatto apposta ma sulle sue intenzioni potremmo discutere a lungo la mamma aveva letto su un volantino trovato in un hotel di una pista di pattinaggio sul ghiaccio a pochi passi sempre organizzata come al solito aveva messo in valigia cappello e giacca per ogni evenienza quindi eravamo attrezzati e ci ha portati lì per ammazzare il tempo lei avrebbe potuto stare seduta sugli spalti a leggere un libro e a godersi il fresco limitandosi a sbirciare ogni tanto che fossimo ancora vivi mio fratello ha iniziato a girarmi intorno l'avevo intuito appena messo piede in pista non c'era molta gente non c'erano ragazze con cui fare lo stupido né i suoi coetanei da servare ma c'ero io ho resistito appena qualche minuto poi, proprio mentre cercavo di raggiungere la mamma con un'andatura goffa e traballante lui mi ha preso per la maglia il peso del mio corpo si è disorientato come se fosse convinto di essere su una gamba e scoprisse di essere sull'altra e sono caduto sulla mano la mia sono finito lungo disteso sul ghiaccio in preda a un dolore lancinante da togliere il fiato anche se non proprio tutto perché mi sono messo a gridare la mamma si è precipitata e vedendo le mie dita in una posizione innaturale e soprattutto incapaci di muoversi ha chiamato un taxi per andare al pronto soccorso quella sera saremmo dovuti rientrare in Italia ma i nostri piani sono stati stravolti dal mio incidente è stato quindi per puro caso che il 4 luglio 1984 siamo saliti su quell'aereo dove mio fratello come se non si fosse divertito già abbastanza avrebbe incontrato il suo errore il suo eroe e io il mio scusate ho fatto qualche errorino qua e là tra l'altro ho una tremenda sensazione che non mi ricordo se si dice vabbè non ve lo dico perché se non ve ne siete accorti almeno allora direi che vi ho detto tutto allora una cosa importante la prossima settimana dalle 17 alle 18 e 30 e questa verrà il 2 aprile il 7 l'8 il 9 di aprile io sarò impegnata in corsi di formazione aziendali dalle 17 alle 18 e 30 quindi se per voi va bene io farei sempre alle 16 riuscite a darmi un ok prima di chiudere così almeno sono sono tranquilla che possiate ciao Renato sono tranquilla che potrete seguirmi anche alle 16 perché ho ancora un sacco di storie da raccontarvi e avrei proprio piacere di non perdere l'abitudine di fare queste letture allora domani ci incontriamo perché abbiamo gli ultimi due episodi di è proprio un piacere ascoltarti ma grazie grazie Raffaella domani abbiamo gli ultimi due episodi del meraviglioso entusiasmante super lupo quindi grazie a Fiorenza che ci dà l'opportunità di leggere ad alta voce i suoi iscritti bene mi arrivano degli ok per le ore 16 perfetto e vediamo un po' se non avrò storie pronte da raccontarvi eventualmente ho i miei fantastici libri per ragazzi c'è questo che il cacciatore di sogni c'è sentirei parlare di me ci sono dei racconti di Valeria Corciolani già pronti quindi cose ce ne sono ho dei racconti come vi dicevo di Isabella Nicora che mi che le ho promesso e che mi farà piacere assolutamente leggere appena avrò tempo adesso vi saluto vi do un bacio alle 17.25 sarò con Nadia Schiavini e Sara Rattaro su Instagram una diretta a Instagram comincio io alle 17.25 con la lettura dell'Incipit e poi lascerò a loro la strada perché alle 18.30 sarò in diretta sarò in diretta con Oddio Il Covo della Ladra presentazione in diretta del romanzo del loro primo romanzo ma si vocifera già di un sequel di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso a distanza ravvicinata Il Covo della Ladra se volete partecipare io vi abbraccio vi bacio vi ho detto tutto canale YouTube ve l'ho detto iscrivetevi per di dirindina e soprattutto condividete le fiabe che mettiamo qui così tantissimi bambini sapranno della nostra esistenza vi saluta anche Gigi che è tornato piccolo e piange uè uè speriamo che che gli passi questo momento di gelosia e tanti saluti da Gino Il Topolino vi salutiamo tutti e tre così ciao ciao bambini ciao ciao ciao